Ciao dolcette e benvenute in questo nuovo episodio di Dolce Flerta all'Università Nathaniel. Oggi dobbiamo cominciare il capitolo 8 che si intitola Sottopressione. Lo scorso capitolo è stato bellissimo, mi è piaciuto davvero tanto perché abbiamo passato una fantastica giornata al mare insieme a tutti i nostri amici ed è finito in maniera molto carina insieme a Nathaniel. Ma adesso dobbiamo tornare alla dura realtà perché riprendiamo l'università, quindi vediamo un po' quello che ci dice. Il ritorno alla realtà è una delle cose più difficili, l'universo sembra rivoltarsi contro di te, andiamo bene. Tra lo stress, i segreti e le rivelazioni shock dovrai mantenere i piedi per terra e la testa sulle spalle, infatti si intitola Sottopressione, dopo una giornata meravigliosa passata da rilassarci adesso. Ovviamente sarà l'opposto, va bene, vediamo un po', cominciamo. Ok, eccoci qui. Questo lunedì mi sono alzata di buon umore. Ho preso un po' di colore e spiaggia e sono contenta di poter sfoggiare il mio colorito dorato prima di affrontare l'inverno. Mi sono preparata per andare a lezione, Yelin invece era ancora sotto le coperte. Provo a svegliarla? Yelin, non vieni a lezione. Lasciami dormire. Credo che qualcuno faccia fatica a riprendersi dal weekend in spiaggia. Non capisco di cosa tu stia parlando. È quello che succede a chi frequenta le litè del mondo dell'arte. Dopo si fa fatica a riprendersi dallo champagne. Non mi parlare mai più di champagne. Ah ok, quindi tipo è ubriachissima lei. Ho messo le scarpe e mi sono resa conto che avevo voglia di andare a fare colazione in mensa. Sono davvero motivata oggi. Ma che sa come mai. Quindi andiamo in mensa. Sempre se solite schermate nere. Vabbè, mi ci sono abituata ormai. Eccoci qui. Ho preso un vassoio e l'ho riempito con pane tostato, una porzione di burro e della marmellata. Ciao! Oh ciao Shani! Come stai? Caspita, sei abbronzata. C'è mancato poco che non ti riconoscessi. Madò, addirittura tutto sto solo l'abbiamo preso. Esageri! Solo un po'? Me ne rendo conto solo adesso. Ma non ti ho vista alla gara di surf. Non sei venuta? Confesso che la spiaggia non è il mio genere. Quello che amo io sono gli sport invernali. Inoltre per me abbronzarsi è un'impresa impossibile. In men che non si dica passo da bianca come il latte al rosso aragosta. Capisco perfettamente di cosa stai parlando. Ci siamo sedute. Bene, cominciamo subito con il mio corso preferito. Non c'è niente di meglio per cominciare bene la settimana. Faccio fatica a capire. Anche se il professor Lebardo è bravo, il suono della sua voce mi addormenta immediatamente. Nessuno mi ha mai fatto questo effetto, tranne lui. Penso solo di essere nata nell'epoca sbagliata. Tutte le storie di arte antica e medievale è come se mi parlassero di un posto fantastico. Un po' come se mi raccontassero la storia di Gondor. Non sapevo che fossi fan del Signore degli Anelli. Il Signore degli Anelli è la mia vita. Niente di meno. Non sai fare le cose a metà tu. Proprio così. Del resto non guardo l'integrale da troppo tempo. Almeno sei mesi. Dobbiamo fare una maratona insieme. Oddio, una volta io l'ho fatta alla moratora del Signore degli Anelli. È stato terribile. Cioè, non lo so. Credo di essere stata sei, sette ore attaccate allo schermo. Alla fine mi sentivo completamente ribambita. Ma vabbè. Sono altri dettagli della mia vita questi. Ai ai, mi sa che ci vorrà un sacco di tempo per questo. Solo dieci ore e venti minuti. Ecco, visto nel dettaglio. Tutto questo tempo sono stata attaccata allo schermo a far la maratona. Giuro, stavo morendo. Non lo farò mai più nella mia vita. Solo dieci ore e venti minuti in tutto. Per le versioni lunghe. Niente, insomma. Stai scherzando. Non abbiamo la stessa nozione del tempo. Abbiamo finito di fare colazione discutendo allegramente. E poi ci siamo incamminate verso l'anfiteatro. Ok, andamos a lesion col professor Leboard. Ed eccoci qui. Il mio cellulare ha vibrato in tasca. E un messaggio di Clementina. Ma Cerrilin, abbiamo più gente del previsto in questo periodo. E questa settimana non ci sarò. Potresti venire a chiudere il bar tutte le sere? Tutte le sere? Wow, è un po' tanto, no? Cosa succede? Clementina mi chiede se posso andare ad occuparmi del bar tutte le sere. Tutte? È leggermente esagerato, no? Sì, lo penso anch'io. Non avrò tempo di studiare con un ritmo simile. Posso benissimo trovare un altro curriculum vitae tra gli studenti se non sei disponibile. Sono sicura che molti altri ragazzi sono ancora alla ricerca di un lavoretto part-time. Mentre leggevo il messaggio, anche Shani l'ha letto guardando da sopra la mia spalla. Sul serio? Osa parlarti in questo modo? Non farti mettere i piedi in testa? Ha ragione lei, quindi rispondiamola. Ho risposto che quella sera sarei venuta, ma che non ero sicura di poter venire le altre sere. Ne riparleremo stasera. E stasera fatti rispettare. Se non puoi, vuol dire che non puoi. Sì, hai ragione Shani, brava. Certo che ho ragione. Dai, vieni, faremo tardi a lezione. Ok, meno male che c'è Shani nella nostra vita. Ho sbagliato, sbaglio sempre io, non c'è niente da fare. Io e Shani ci siamo sedute verso il centro dell'anfiteatro e abbiamo tirato fuori le nostre cose con calma. Il professor Lebard è entrato senza guardare nessuno, ha tranquillamente posato la borsa sulla cattedra. Poi ha incrociato le braccia aspettando che tutti facessero silenzio. Buongiorno a tutti. Oggi la lezione sarà un po' diversa. Ho intenzione di aiutarvi per la tesi. È l'occasione giusta per criticarci a vicenda in modo costruttivo. Ma che bello. La tesi? Da quando Shani mi ha aiutata non sono più andata avanti. Mi sono morse il labbro inferiore, aspettando ulteriori istruzioni. Mi sono divertito a scrivere i vostri nomi su dei biglietti. Ha tirato fuori dalla sua borsa una ciotola di plastica e l'ha posata sulla cattedra. Estrarò a caso il nome di una persona che ci leggerà l'introduzione della sua tesi. Cioè, ma quanto mette ansia sta cosa? Varie persone nell'anfiteatro hanno alzato la mano. Se per caso non avete portato l'introduzione della tesi, ricorrerete ai vostri ricordi. Siete voi che l'avete scritta. Perciò dovete sapere di cosa si tratta. Non ho alcun dubbio sul fatto che saprete sporla senza problemi. Mi sono girata verso Shani, livida in volto. Un dolce, così a caso. Dolce, vi è qua. Oh, che bella. Ho vinto la borsa con il logo di Eldaria. Grazie mille. Riprendiamo. Va tutto bene? Abbiamo rivisto insieme il tuo progetto. Ed è formidabile. Se non mi ricordo male, avevi finito l'introduzione. Te lo ricordi, no? Ecco, voglio dire che... Hai... Ok, tranquilla. Ci sono almeno una trentina di nomi nella ciotola. Ci sono davvero poche possibilità che tocchi a te. No, tranquilla. La sfiga ci vede benissimo. Quindi è probabile che tocchi proprio a noi. Non ci vorrà molto. Spero di sentire almeno cinque o sei persone oggi. Quando ha messo la mano nella ciotola, ho incrociato le dita fino a farmi male alle falangi. Non io, non io, non io, non io. Per pietà, non io. Alicia! Oh, grazie al cielo, Alicia! Vai, vai! Scusi, professore, ma credo che sia assente oggi. Mannaggia! Ma proprio oggi doveva essere assente questa? Per pietà, per pietà, per pietà! Ha messo di nuovo la mano nella ciotola mescolando i foglietti tra le dita. Melody! Ecco, brava Melody, vai! Sono io, professore. Yes! Ma lei ha già letto la mia introduzione. Io gliel'ho inviata prima dell'inizio dell'anno per avere il suo parere. Dato che tratto un argomento di arte antica, non ho problemi per presentarlo alla classe. Ma sarebbe rubare il posto a qualcuno che ha più bisogno di aiuto di me. Melody, ti sto odiando in questo momento. Sappilo! Ah, già, è vero, Melody. Un argomento straordinario è il suo, per giunta. Allora ne strago un altro. Te pareva, te pareva! Cerrelin! Voglio diventare invisibile. Che cosa? Alzati, dai! Tocca a te! Ma... 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 Non ho niente! Non posso! Non... Non abbia paura! Saremo comprensivi! Si ricordi che l'obiettivo di questo esercizio è di aiutarla, non di farle paura! Su, venga qui! Mi sento come se il mio spirito avesse abbandonato il mio corpo e lo stesse osservando dall'alto. Non ho assolutamente alcuna idea di cosa potrei tirar fuori. Ho camminato lentamente. Un ritmo da corteo funebre fino alla lavagna. Secondo me adesso sveniamo. Tutti mi fissano. L'anfiteatro mi sembra molto più impressionante visto da qui. Allora, l'introduzione è... Ehm... Quindi... Oggi... La cultura pop è dappertutto e ci circonda. Ehm... Abbiamo la possibilità di vederla e di... E voglio dire... E' come... Sento ridacchiare in aula. Non so dove. Le mie guance iniziano a scaldarsi. Cerrelin! So che l'esercizio non è facile. Chiuda gli occhi. Non mi guardi così. Su, chiuda gli occhi. Inspiri profondamente. Poi espiri fino a non avere più aria nei polmoni. Ma al professor così svengo. Ho fatto quello che mi ha detto. Ecco. Adesso ci dica semplicemente qual è il tema della sua tesi. I personaggi femminili forti nella cultura pop. Un tema molto attuale. Molto lontano dalla materia che insegno io. Il professor Zaidi è sicuramente più indicato di me per darle dei consigli. Ma è un tema che può essere appassionante. Può darci un esempio di personaggi femminili forti? E beh, ecco. C'è Wonder Woman. E... Ho sentito altre risate in aula. Mi sono schiarita la voce per parlare un po' più forte. Un altro è Arya Stark in Games of Thrones. Hermione Granger in Harry Potter. Curtis Everdeen in Anger Games. Lara Croft. La principessa Mononoke. Tutti questi personaggi sono delle icone. La mia voce si è un po' alterata e parlando ho sbattuto il piede per terra. Un gruppo di studenti continuava a chiacchierare tra loro. Le mie guance sono diventate bollenti. Un po' di silenzio in aula, per favore. Perfetto. Adesso che hai ritrovato la memoria, ci espongo la sua introduzione. Ho le mani sudate. Ho scritto l'introduzione, ma non me la ricordo. E lo stress mi fa perdere la concentrazione. E beh, ecco. Allora, io... Quindi oggi vi parlerò dell'iconografia dei personaggi femminili forti nella cultura pop. E quindi... Un icone è un personaggio che simbolizza una corrente. Incarna l'idea che ispira o rappresenta un vasto gruppo culturale. Quindi... Vedo Shani che mi fa un cenno di incoraggiamento alzando il pollice senza farsi notare. Continui, continui. Va benissimo. Beh, ecco. Io approfondirò il tema dell'iconografia e del... Sta girando in tondo. Immagino che sia lo stress. A meno che lei non abbia ancora scritto l'introduzione. Ma in questo periodo dell'anno sarebbe sorprendente. Se devo essere sincera, l'ho scritta da poco. Ma... Sicura? Sì. Continuo a guardarmi inquieto. Può tornare al suo posto. Ma... Cerilin, in questo periodo dell'anno, quello che ci ha esposto è troppo striminzito. Dovrà darsi una mossa. Sì, professore. Sono tornata a sedermi accanto a Shani. Ho l'impressione di aver perso un litro di sudore. Mi sono fatta piccola piccola quando è stato il turno degli altri. Ho preso appunti sulle critiche e le osservazioni che venivano fatte. Ho avvertito un nodo allo stomaco. Eppure il weekend in spiaggia l'aveva fatto sparire. Le due ore di supplizio sono finalmente terminate. Vieni, andiamo a prendere una boccata d'aria. Con piace... Posso parlarle un attimo, per favore, Cerilin? Guai in vista. Oh no, per pietà. Non mi lasciare, Shani. Non mi lasciare. Non mi lasciare. Non mi va di lasciarti. Ma credo che voglia parlarti a quattro occhi. Inizio a pensare che questa ragazza legga davvero nel pensiero. Il professor Lebarda ha guardato Shani cortesemente, facendole cenno di andare ad aspettarmi fuori. Ha alzato le spalle ed è uscita. Volevo tranquillizzarla a proposito di prima. So benissimo che situazioni simili possono aumentare lo stress. Ma non abbia timore. Molti studenti scrivono l'introduzione alla fine. Ognuno ha il suo metodo. Sì, ma ho scritto davvero l'introduzione? Ho solo perso la concentrazione. Se ha scritto l'introduzione, e comunque poco, avrebbe dovuto avanzare nella stesura del corpo del testo. È per questo che non ha abbastanza materiale da esporre. Mi ci metterò appena avrò del tempo libero. Glielo prometto, ci lavorerò sopra. Non è a me che deve prometterlo, ma a se stessa. Si è schiarito la voce prima di ricominciare con un tono meno severo. Ah, capisco. L'argomento è interessante, ma non basta per fare una tesi di almeno un centinaio di pagine. Non tardi troppo, signorina. Sono preoccupato per lei. Comunque, buon lavoro. Mi ha dato una pacca sulla spalla. Cerca sicuramente di incoraggiarmi. Eppure io ho l'impressione che non fa altro che aumentare il mio livello di stress. Allora, raggiungi Shani fuori. Andiamo. Questo episodio non è cominciato tanto bene. Tutto bene? Cosa ti ha detto? Ha cercato di incoraggiarmi. In fondo, è un bravo professore. Sono sicura che l'ha fatto per il tuo bene. Sì, sicuramente, ma... Mi sembra di essere ancora più stressata di prima. Andrà tutto bene. Stasera potrai studi... Ah, no. Devi lavorare al bar. Beh, allora, a partire da domani. Se hai bisogno, posso aiutarti di nuovo, eh? Ma non puoi mica aiutarmi tutto l'anno, Shani. Tu hai già scritto varie tesi. Mentre io non risco neanche a cominciare la prima. Per di più, è un lavoro che devo fare da sola. Io... Anch'io sono stata aiutata. Mia madre mi ha dato una mano per la metodologia. Altrimenti non ce l'avrei fatta. E te l'ho già detto. La mia vita sociale non è certo eccitante quanto la tua. È per questo che ho tempo per fare cose simili. Preferirei avere un gruppo di amici e frequentarli irregolarmente. E... D'un tratto, mi sento un po' in colpa di non aver neanche proposto a Shani di venire con me in spiaggia. Dopo tutto quello che ha fatto per me. La pietra che ti ho regalato, la porti sempre dietro? No, io... Credo di averla lasciata nel cassetto del comodino. Ma... Non serva a niente così. Devi sempre averla addosso. Se l'avessi avuta, saresti stata molto più a tuo agio. All'orale poco fa. Ok. Dovremmo già essere al corso di arte moderna. Vieni. Non è il momento di essere in ritardo. Ho annuito e mi sono lasciata trascinare da Shani fino al dipartimento di arte. E andiamo ad una nuova lezione. Questa volta sono entrata nell'aula corretta. Ryan era già nell'aula quando siamo entrate. Ci ha sorriso. Poi si è concentrato di nuovo sui documenti che erano davanti a lui sulla cattedra. Non restano molti posti liberi. Perciò ci siamo dirette verso il fondo dell'aula. Non è possibile. Mi chiedo come faranno per... Tutti stanno parlando sottovoce. Yelin e Melody sono sedute una accanto all'altro. All'inizio sono rimasta sorpresa. Sei sicura di quello che dici? Non credo che... Ma se te lo dico, varie persone li hanno visti. Io e Shani ci siamo sedute proprio dietro di loro. Da quant'è che sono diventate amiche quelle due? Ah, ma... È vero che magari si sono conosciute alla serata che ho organizzato in camera mia all'inizio dell'anno. Sono tutti particolarmente chiassosi oggi. Non ti sembra? Yelin si è girata verso di noi. È perché molti nel weekend hanno visto il professor Zaidi con un gruppo di studenti in spiaggia. Ah, sì, è vero. La mia attenzione si è focalizzata sulle labbra di Yelin che riservano maldicenze. A quanto pare avrebbe baciato una delle studentesse con cui era. Dicendo questo, Yelin mi ha guardata dritta negli occhi. Oh no! Si mormora che abbia baciato una studentessa. Abbiamo passato l'inizio della serata insieme. Se n'è andato subito dopo, mi sembra. Ma in fondo... Non ne so niente. Per caso tu non l'avresti visto questo weekend, Cherry Lynn? Sì, è vero che con alcuni amici in comune abbiamo preso un drink insieme. Ma è tutto! Hai preso un drink con il professore? Sì, c'era molta gente in spiaggia. E si dà il caso che siamo stati invitati dalle stesse persone. E allora? Per caso non hai visto con chi ha finito la serata? No! Abbiamo solo bevuto un bicchiere insieme. Buongiorno a tutti. Oggi parleremo di opere d'arte diverse tra loro. Il tema che hanno in comune è quello dei rapporti pericolosi. Molti si sono messi a ridere. Le due ragazze davanti a me si sono date una gomitata. Ok, che voci strane stanno circolando? E' un riferimento a le relazioni pericolose. Il famoso romanzo di Chaterlot della Clos. Ho trovato numerose opere che trattano questo. Una ragazza ha alzato la mano. E quando Ryan le ha dato la parola, ha soffocato una risata. Poi si è messa a parlare con un sorrisetto eronico. Come le relazioni tra professori e studenti? Beh, ecco, sì eventualmente. A cosa si riferisce con questo eseme? E' stato interrotto da una voce che proveniva dal centro della sala. Lei dovrebbe saperla lunga sull'argomento. Un gruppo di una decina di persone si è messo a ridere, mentre io, Shani, Melody e Jilin osservavamo la scena con attenzione. Avevo un terribile nodo allo stomaco. Ho una strana sensazione. All'improvviso mi sento in colpa. Ma abbiamo solo parlato e preso un drink insieme. Niente di proibito, dopo tutto. Da dove vengono questi pettegolezzi? A meno che, lui non frequenti una studentessa, senza che io lo sappia. Ho rivolto un'occhiata a Melody. Anche lei non parlava e sembrava assorta nei suoi pensieri. Come me. Sembra che l'argomento vi interessi. Meglio così. Iniziamo subito con varie opere. Ve le mostro sullo schermo. Mentre sistemava gli strumenti, un ragazzo davanti a me ha sussurrato. Per fortuna che abbiamo un esperto sull'argomento. Se penso che si è fatto sicuramente una studentessa, devo farmi dare lezioni per rimorchiare. Molti hanno riso alla sua battuta. Sono scandalizzata da quello che ha detto. E ancora di più mi scandalizza il fatto di vedere che molte persone ridono come se la cosa fosse normale. Proviamo a dire la prima, visto che noi abbiamo questo senso del dovere. Doversi chiudere il becco? Che ti credi di essere? Sei fortunato che Ryan non ti abbia sentito. Tutti quanti nella sala si sono immobilizzati. Ero così infuriata che le mie unghie mi sono penetrate nel palmo della mano. Ma perché l'abbiamo detto urlando sta cosa? Oddio, forse era meglio se facevo l'altra. Ahm, Ryan? Oddio, l'abbiamo chiamato per nome. Ok, forse era meglio che facevo l'altra. Il ragazzo a cui mi ero rivolta ha sorriso in modo ironico. Ho incrociato lo sguardo di Ryan, che sembrava rendersi conto della situazione in quel momento stesso. Ho alzato la voce più di quanto avessi voluto. Voglio dire, il professor Zahidi. Se ci sono persone che preferiscono chiacchierare invece di seguire la lezione, ecco la porta. Il ragazzo a cui mi ero rivolta ha fatto l'occhiolino al suo amico sussurrando. Magari dovremmo lasciarli soli tutti e due. Chiudi il becco. Non ho intenzione di farmi mettere i piedi in testa da nessuno. «Cherry Lynn, esca per favore!» «Cosa? Ma...» «Vorrei che uscisse. Farò in modo che oggi, in via eccezionale, qualcuno prenda appunti per lei. Li avrà dopo!» Sono rimasta per un attimo a bocca aperta seduta sulla sedia. Tutti mi guardavano. Ho preso le mie cose e ho sceso le scale dell'anfiteatro lentamente. Cioè, ci ha buttato fuori dalla classe? «Ci siamo scambiati uno sguardo. Ho capito che voleva dirmi qualcosa, ma si è girato verso l'auditorio e ha ripreso a fare lezione, come se niente fosse». E ok, allora, io mi fermo qui con questo episodio che non è stato affatto positivo, anzi, diciamo che è iniziato proprio malissimo. Quindi non so come sarà questo capitolo, ma da quello che c'era scritto nell'introduzione non sarà per niente facile. Fatemi sapere ovviamente cosa ne avete pensato giù nei commenti, se questo video vi è piaciuto non dimenticatevi di mettermi un like. Se non siete iscritti, iscrivetevi così non vi perderete i prossimi video. E noi ci vediamo in un prossimo gioco. Ciao!